Un saluto a tutti i nostri lettori, in questo video vi proponiamo la recensione di uno smartphone che non ha bisogno di presentazioni, OnePlus 5. Lo smartphone di Pitlau giunge alla quinta generazione e ormai non è più un'ammazzagiganti, ma un gigante consolidato alla stregua delle proposte più blasonate sul mercato. La testimonial di OnePlus 5 è Emily Ratajkowski e già solo questo vale l'acquisto. Ma se cercate qualche motivo migliore per comprare questo smartphone vediamo quanti ne volete. Ad esempio le ottime performance, il bel design con una qualità costruttiva da primo della classe, la fotocamera, ma andiamo con ordine. OnePlus 5 è uno smartphone con cornici standard e scocca in alluminio univadi. Sulla parte frontale, protetta da vetro 2.5D, ha un display AMOLED da 5,5 pollici di buona fattura che soffre di jelly scrolling. E questa volta è vero, è 5,5 pollici. Il caso del jelly scrolling è scoppiato quando alcuni utenti si sono lamentati del problema, che si manifestava con alcuni artefatti durante lo scorrimento di immagini e testi sullo schermo. È come se la sincronizzazione non sia perfetta fra le varie parti della schermata con l'animazione che si verifica qualche millisecondo prima sulla parte superiore e poi in quella inferiore. Abbiamo verificato il difetto anche nella nostra unità e possiamo facilmente ricondurlo alla categoria delle pippe mentali, ma per un utente particolarmente esigente questo problema potrebbe essere fastidioso. Il display è buono sul piano della luminosità, ma non eccellente. Si vede discretamente sotto la luce del sole e a neri profondissimi ed elevati angoli di visione, promosso ma con la riserva del jelly scrolling. Lato hardware OnePlus 5 è esemplare. Si fonda su una piattaforma Qualcomm Snapdragon 835, un octa-core con architettura custom supportata da un reparto memorie altrettanto esemplare. In vendita troviamo due versioni, una con 6 GB di RAM e 64 GB di storage integrato, l'altra con ben 8 GB di RAM e 128 GB di storage. L'archiviazione si basa su chip UFS 2.1 velocissimi, ma in entrambi i casi non espandibili. In abbinamento alla personalizzazione Oxygen OS proprietaria, l'hardware di OnePlus 5 offre performance da primo della classe. La navigazione web è fluida e spostarsi fra un'applicazione all'altra è praticamente istantaneo, anche grazie all'enorme quantitativo di RAM integrato. Tutto è velocissimo su OnePlus 5, grazie ad una versione di Android integrata che è praticamente stock, con l'aggiunta di poche e mirate funzionalità. La scansione dell'impronta con sensore frontale è fulminea e affidabile nel 100% dei casi e ci piace per la sua comodità shelf, ovvero la raccolta di widget in scorrimento verticale su una delle pagine della Home. Sul fronte dell'autonomia il nuovo smartphone cinese consegna un risultato standard in linea con altri top di gamma di attuale generazione. Con un uso moderato si fa un giorno e mezzo, mentre in una giornata si possono sfruttare circa 4 o 5 ore di schermo in base alle applicazioni utilizzate. Nei nostri test invece siamo arrivati a 700 minuti in navigazione Wi-Fi, quindi oltre 11 ore e mezza e abbiamo sfiorato i 1000 minuti in riproduzione video full HD. Questo grazie al display AMOLED particolarmente efficace nella multimedialità. Lasciamo per ultimo la fotocamera, con il modulo posteriore di OnePlus 5 che si caratterizza per la presenza di due sensori. Il principale è un Sony Exmor RS di fascia alta da 16 megapixel, il secondario è da 20 megapixel pur appartenendo alla stessa famiglia di Sony. Il primo viene abbinato ad un obiettivo standard da 24 mm equivalenti di lunghezza focale, il secondo invece viene abbinato ad un obiettivo da 36 mm equivalenti. Il risultato è uno zoom da 1,6x che OnePlus 5 promette di far diventare da 2x attraverso l'unione dell'hardware agli algoritmi software proprietari. Le foto di OnePlus 5 sono ottime quando si scatta con il modulo principale, ai vertici della categoria se consideriamo il livello di dettaglio percepito, mentre non ci è piaciuto troppo l'effetto zoom 2x con il risultato finale che ci è parso sempre piuttosto morbido e impastato e il livello di dettaglio aggiunto non determinante. La fotocamera di OnePlus 5 perde la stabilizzazione ottica rispetto a OnePlus 3T, anche se dobbiamo ammettere che al buio non si comporta male se non in presenza di condizioni di luminosità davvero pessime. OnePlus 5 registra video in Full HD a 60 fotogrammi al secondo e in 4K a 30 fotogrammi al secondo e i video sfornati sono ottimi dal punto di vista visivo, con un'elevata gamma dinamica e un dettaglio eccellente, e buoni anche per quanto riguarda la stabilizzazione anche se solo elettronica. Ma la domanda alla fine è, OnePlus 5 è il miglior smartphone di questa generazione? E' certamente indubbio che sul mercato ci sono smartphone che offrono un livello di innovazione maggiore, ma è anche vero che questi smartphone non sono esenti da problemi. Galaxy S8 ha il sensore di impronte messo in posizione sbagliata e l'EGG6 una piattaforma hardware di passata generazione. OnePlus 5 ha un po' di cornici in più, è vero, ma è un cellulare che offre un'esperienza d'uso davvero solida ad uno street price comparabile se non addirittura inferiore. OnePlus 5 non è assolutamente migliore di Galaxy S8 e di LG G6, ma può sfidarli senza troppa timidezza e anche a 499€ comunque vale ogni soldo speso. Con OnePlus 5 abbiamo concluso e se il video ti è piaciuto ti invitiamo a mettere un mi piace e di seguire il nostro canale. Non dimenticare di seguirci anche su Facebook e di leggerci sulle pagine di Hardware Upgrade. Ciao a tutti e al prossimo video!